Il sopralluogo è il momento fondante dell'attività investigativa e questo è un momento che per noi è essenziale ed è fatto di tradizione. Sono cambiate esclusivamente le tecnologie, la professionalità del carabiniere è sempre la stessa, per noi questo è un punto d'onore. Abbiamo dimostrato oggi che 32 anni fa i nostri carabinieri sono stati dei bravi carabinieri che sono riusciti a preservare la prova a favore di future tecnologie che oggi nel 2020 hanno portato a questo importantissimo successo investigativo.